Sulla roba del neoliberalismo la sappiamo la risposta, è una cosa indegna, l'unica cosa vera su cui riflettere è il fenomeno mondiale per cui un certo gruppo sociale, in realtà delle elite stataliste e burocratiche, perché se mi si permette un momento di analisi strettamente marxista, la maggioranza dei rappresentanti di questa tendenza sono borghesi, piccolo borghesi, tipicamente medio borghesi, per usare un linguaggio loro, dalle Marta e Fana che vuole la lotta di classe ai Fabrizio Barca che invece è un altro borghese, ai Rovendini che è un piccolo borghese e così via, annidati negli apparati dello Stato, i quali cercano potere e estrazione di surplus sociale facendo del populismo. E ovviamente nella tattica di questo gruppo che è ampio, perché c'ha negli Stati Uniti Paul Krugman, Danny Roderick o che ne so, nella miglior traduzione del populismo mondiale, questa è una cosa che sto cercando di scrivere, il populismo funziona quando c'è un nemico, un nemico semplice, un nemico dannoso, un nemico non facile da identificare. E' un nemico al quale possono essere attribuiti tutti i mali. Il neoliberismo da 10-12 anni, cioè dalla crisi del 2008-2009, è tale nemico. E' un nemico perfetto, sapete perché? Perché non esiste. E siccome il nemico migliore da dittare alle masse urlanti è quello che non esiste perché esso sopravviverà sempre, esso sarà sempre disponibile, esso sarà sempre riconducibile ai mali avvenuti, questi sono diventati il nemico perfetto. Per cui il neoliberismo è il consenso di Washington, contro il quale gli economisti, colleghi miei, si schieravano io stesso. Il neoliberismo è Alan Greenspan, che io nella fase in cui ero un consulente della fede ho criticato mostruosamente, come l'ha criticato Bob Lucas, come l'ha criticato tanti altri. Il neoliberismo è qualsiasi roba gli serva a questo gruppo di interesse, a un gruppo di borghesi, di parassiti del pubblico, del settore pubblico, annidati nei gangli dello Stato, che attraverso l'operare del gangli dello Stato, la promessa del paradiso terrestre al popolo, hanno occupato posizioni di potere assolutamente invidiabili. Controllano fette enormi di prodotto interno lordo, che Bill Gates se le sogna. Questa è la realtà. E quando gli dici, come è successo, ai pochi che hanno il coraggio o la temerietà di confrontarsi pubblicamente sui numeri, ma mostrano i numeri, svicola. Io mi ricordo un dibattito con uno degli esponenti di questa cosa, Monelle Felice, quando gli spiegai che circa il 75% del prodotto interno lordo italiano è controllato dalla politica. Ora, la politica in Italia sono 5.000 persone. E il 75% del prodotto interno lordo italiano sono, cosa, tre quarti, 1.200 miliardi almeno. Ora, guardate che 1.200 miliardi diviso 1.000 fa 1.200 milioni a testa e diviso 5 fa una valanga di soldi. Sono 240 milioni di euro controllati a testa. È tanta roba. È tanta roba. Qui ci sono in realtà i più potenti d'Italia. Sono loro i potenti, non Ferrero. Questa è la realtà del dibattito. È un dibattito folle ed è semplicemente la grandissima vittoria del neopopulismo. E questo è il fatto vero. Che ci sia rimasti quattro gatti, perché in realtà siamo una minoranza risibile, di tecnici, perché alla fine quello siamo, a difendere non tanto il neoliberismo, di cui me ne frega meno di zero. Greenspan, ripeto, mi stava sul cazzo. Ma neanche a me. Poi questo neoliberismo, paleoliberismo, chiamatelo un po' come volete, poi quel neoliberismo paradossalmente dovrebbe essere quello, no, di Lipman, di Roustoff, cioè quello che vede nell'intervento dello Stato un qualcosa che corregge il liberalismo paleo o il liberalismo paleo in cui invece c'era una riduzione massima. Ecco, io questo penso. Gli uomini usano la parola neoliberista per attaccare chiunque non abbia le loro idee o non proponga il tipo di maluso delle risorse pubbliche che loro propongono, allora io dirò che chi non è d'accordo con me è un neocomunista, un neostalinista, un neomaoista. A questo punto siamo a questo livello. No, davvero, hanno rotto. Sono delle persone in malafede. Comunque, quello è... Ma guardate, il problema è nostro, è un altro, non nostro, di persone che cercano di ragionare come noi sul futuro del paese, qual è? È che purtroppo il dibattito tutto prescinde dai fatti.